Carlo Blengino, giurista e conoscitore di robe di internet e di digitale. Tra big data, hate speech e tentativi di regolamentare, dove ci porta il web? La domanda forse dovrebbe essere dove portiamo noi il web, perché se la base della paura dell'algoritmo e dunque dei big data, sulla base della paura dell'hate speech e della parola eccessiva pensiamo di regolare il web e di depotenziarlo nella sua strada, fin qui tracciata, che è una strada di libertà allora non sarà dove ci porta il web, ma dove porteremo noi il web, temo a implodere su se stesso. Questo è un momento oggettivamente dedicato per il web, perché potrebbe effettivamente implodere su se stesso schiacciato da degli over the top sempre più condiscendenti nei confronti dei poteri statuali che tentano di recuperare terreno perduto e appunto i vecchi padroni delle informazioni che soffrono per una libertà che prima non c'era. Grazie